la pasta risottata è un modo originale per cucinare la pasta che si cuoce direttamente in padella come se fosse un risotto il pomodoro si esalta particolarmente in questa preparazione tagliate a metà i pomodorini e fateli scottare in padella con olio aggiungete la passata e i pelati e cuocete per 10 minuti aggiungete la pasta non cotta un litro di acqua bollente e cuocete per 20 minuti mescolando di tanto in tanto tra bambino e un pollo come si può essere scegliato e di padella con il ragazzo attraverso un luogo colore ho corso aggiungete la pasta di plastica aggiungete la pasta di plastica aggiungete la pasta di plastica Grazie a tutti.